Il Consiglio Comunale non si è tenuto per la mancanza del numero, c'è un problema nel centro-sinistra? No, non credo, c'era qualche assenza giustificata e in più c'è stato un momento di distrazione in cui i consiglieri erano già venuti però non erano presenti in auto. Comunque non è un problema politico, è stato più che altro un fatto organizzativo secondo me. Il fatto per esempio che Zaffina era presente però è uscito dall'aula e Zaffina sta aspettando una nomina ufficiale, è ancora ufficiosa ma non è definitiva all'assessore, non è un segnale? No, assolutamente, è stato nominato dal gruppo quindi più sicuro di così, obiettivamente proprio. Proviamo a buttarla così, la giacca di speranza quanti lati è tirata? Solo dal PD o anche dal progetto Lamezzi? No, il progetto Lamezzi ha le sue appartenenze e le sue disponibilità da dare al sindaco, già stabilite quindi non c'è nessun problema. La tipeco finale tra Crapis e Aiello è normale amministrazione? Crapis e Aiello sono dei discorsi personali fra di loro che nulla hanno a che vedere con la maggioranza consigliare assolutamente, no, quello no, obiettivamente. Ma non c'è un problema secondo me di maggioranza? No, perché sia il progetto Lamezzi che il PD chiedono il vice sindaco? No, assolutamente il progetto Lamezzi non chiede il vice sindaco, non sta nelle cose che chiede, prima di tutto il progetto Lamezzi non chiede niente. Nemmeno un assessore? No, non chiede niente, dà contributi se sono richiesti e siccome il sindaco ha detto che voleva una rappresentanza anche di progetto Lamezzi, delle liste che avevano partecipato, noi ci rendiamo disponibili a dare. Non abbiamo richieste da fare, il nostro è il programma, la realizzazione del programma, direttamente questo. C'è un'altra candidatura, però se proprio dobbiamo fare un rimpasto ci viene chiesto. Noi? No, noi non abbiamo i candidati da dare. Non quello sto dicendo. Sì, sì, ce li abbiamo. Ah, avete già i nomi? Sì, sì, sì. Devono sciogliere le riserve, chiaramente, sulle disponibilità ancora no, bisogna capire, però non ci sono problemi. Ma sono direttori e consiglieri o sono extra? Possono essere sia tra consiglieri che extra. Che risposta? Ma possono essere, possono essere. Il primo punto dell'ordine del giorno era l'approvazione del regolamento? Il regolamento è stato emendato, la commissione l'ha licenziata a maggioranza di 17 voti, quindi c'è un accordo sulla maggioranza ben preciso. Ci sono gli emendamenti disponibili e quindi ce l'abbiamo. Su questo non c'è nessun problema, perché il rischio è quello di scioglimento del Consiglio. Ma non si fa in seconda convocazione, si riconvoca un consigliadoras, non ci sono problemi. Cioè, lì non c'è perché è stato trovato già un accordo sul regolamento. C'è chi paventa dubbi anche sulla possibilità del centro-sinistra di avere dieci consiglieri in aula la prossima volta? Se è così il sindaco ne dovrà prendere atto, se è così, però a me non risulta che sia così. È chiaro che se la maggioranza si dovesse risolvere in questo modo, però non serve. Io credo che il PD ha tutto l'interesse a dare governabilità alla città, perché sarebbe veramente incomprensibile se questo non avvenisse. Però un gruppo di iscritti del PD si è staccato, ha convocato un'assemblea pubblica? Vabbè, ogni critica è legittima e ci sono anche delle posizioni condivisibili in quello che hanno detto questi gruppi del PD, perché secondo noi, anche Progetto Lamezia, questo l'ha detto in altre occasioni, la ricomposizione dell'aggiunto alla rimodulazione aveva necessità di un discorso ampio che si prospetta sul futuro, gestire il presente ma principalmente sul futuro. Se avviene con la semplice sostituzione ne prendiamo atto, ma non è un progetto che vede tutti coinvolti, non so se mi spiego. Zaffina e Liotta sono un occhio guardante al passato più che al futuro? No, 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 sono due persone che hanno già fatto parte dell'aggiunta Speranza, l'hanno fatto bene, non ho un motivo di esprimere e non so quanti possono essere il futuro, quanti possono essere il passato, se guardiamo al futuro dobbiamo guardare ad altre novità, però questo non si poneva un problema tra futuro e passato in questa rimodulazione dell'aggiunta. E' più il progetto che ci deve interessare che è un fatto collettivo che non è basato sui nomi singoli chiaramente. Il PD quando aveva fatto la richiesta di speranza però c'erano tre punti, giunta macchina amministrativa e multiservizi, gli stanno parlando solo del primo, gli altri due secondo te cambierà qualcosa? No, assolutamente. Secondo me la multiservizi chiaramente è una discussione molto più ampia che non è un fatto esclusivamente di nomi ma riguarda quello che sarà il piano industriale che verrà sottoposto prima di tutto alla multiservizi e poi all'amministrazione perché qui parliamo di una certa criticità nella gestione di questa nostra partecipata e quindi qui dobbiamo capire bene. Non può essere uno che ha la bacchetta magica che risolve il problema sulla multiservizi. Per quanto riguarda invece la macchina amministrativa, il problema è stata rifatto una rimodulazione della macro struttura, una nuova organizzazione, aspettiamo i risultati, è stato fatto nemmeno 5 mesi fa, 6 mesi fa questa cosa, quindi i risultati sulle organizzazioni avvengono dopo. Speriamo che ci siano ma sicuramente se ci sono dei correttivi da fare si possono anche fare se c'è una maggioranza forte e coesa sicuramente.